ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su investire consapevole oggi parleremo di investimenti in giappone vedremo un po di dati aggiornati al 2021 e scopriremo insieme qual è secondo me il migliore tf per poter investire nel giappone ovviamente parliamo dell'azionario ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video per aiutarmi con l'algoritmo di youtube a diffondere la consapevolezza finanziaria in italia vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti giornalieri che pubblico ma non perdiamo altro tempo e iniziamo immediatamente per quanto riguarda la borsa di tokyo questo ieri ha chiuso con un meno 1,89 per cento con futures usa in forte calo ansia in cina anche per un boom di tassi repo people's bank of china non calma i nervi vediamo di che cosa si parla allora ragazzi innanzitutto ieri c'è stata una sessione all'insegna dei sell off in asia nonostante la chiusura positiva di wall street c'è da dire tuttavia che i futures sugli indici azionari usa segnano forti ribassi a conferma dell'alta volatilità presente nei mercati nella seduta di ieri lo standard seppur 500 ha chiuso in rialzo dello 0,98 per cento a 3.787,38 punti mentre il dow jones industrial average è balzato di 300,19 punti a 30.603,36 punti il nasdaq composite invece è salito dello 0,5 per cento a 13.337,16 punti al momento i futures sul dow jones capitolano tuttavia di 300 punti circa per quanto riguarda il giappone l'indice nikkei 225 della borsa di tokyo ha chiuso così il ribasso dell'1,89 per cento a 27.663,39 punti l'indice cospi della borsa di seul cede quasi il 3 per cento chiudendo a meno 2,87 per cento shanghai scende dell'1,08 per cento hong kong dello 0,81 per cento mentre sydney limita le perdite con un meno 0,64 per cento protagonisti i team i timori sulla liquidità dei mercati cinesi dopo che i tassi overnight repo sono balzati al record in quasi sei anni la people's bank of china banca centrale cinese ha iniettato 98 miliardi di yuan senza riuscire tuttavia a rassicurare i mercati il timore è che la liquidità venga drenata ulteriormente in vista della festività del capodanno lunare cinese che prenderà il via il prossimo 12 febbraio quindi ragazzi come potete vedere negli ultimi giorni ci sono stati dei ritracciamenti per quanto riguarda i maggiori indici mondiali a partire ovviamente dallo standard sempur 500 perché come sappiamo la borsa statunitense è quella che traina poi in realtà tutte le borse mondiali possedendo oltre il 50 per cento della capitalizzazione di tutte le aziende mondiali al seguito ci sono stati anche ribassi su tutte le borse asiatiche per quanto riguarda appunto il giappone abbiamo visto una una diciamo un indice della fiducia dei consumatori peggiorato a gennaio infatti nel mese di gennaio l'indice della fiducia dei consumatori è sceso a 29,6 punti dai 31,8 di dicembre il dato ha fatto comunque lievemente meglio rispetto ai 29 punti attesi dal consensus per quanto riguarda invece la produzione industriale anche per anche per questo dato nel mese di dicembre ovviamente questo dato si riferisce a dicembre la produzione industriale del giappone è scesa dell'1,6 per cento su base mensile peggio del meno 1,5 per cento atteso dal consensus e rispetto al precedente calo dello 0,5 per cento e quanto emerge dalla lettura preliminare del dato su base annua il trend è stato di un calo del 3,2 per cento rispetto al meno 3,1 per cento stimato e al precedente meno 3,9 per cento di novembre quindi ragazzi come potete vedere ci sono dei dati un po' fuorvianti nel senso che per chi vuole investire in giappone potrebbe essere un buon momento perché ci sono stati dei ritracciamenti ma la domanda che ovviamente mi farete è come facciamo a investire in giappone allora ragazzi io appunto per questo in questo video vi ho selezionato il miglior etf per investire nel giappone ho fatto una ricerca e sono arrivato alla conclusione che secondo me l'etf i shares core msc japan imi ucits etf è il migliore per poter investire in quanto è armonizzato quindi rispetta le regole degli investimenti per quanto riguarda l'unione europea e in più è un etf della casa msc è ovviamente riferito interamente al giappone l'isin che dovete cercare se volete investire con questo etf nel giappone è ie00b4l5yx21 mentre il ticker sjpa ragazzi l'indice msc japan imi replica le azioni del giappone quindi badate bene che questo è un prodotto completamente azionario copre titoli di diversi segmenti a grande media e piccola capitalizzazione per quanto riguarda la replica abbiamo una replica fisica parliamo di un campionamento ottimizzato la struttura di questo fondo di investimento è un banale etf quindi un exchange traded fund sono praticamente dei fondi che replicano l'indice msc japan ovviamente parliamo di strategia con posizioni long non io sconsiglio con questo tipo di investimenti di andare a fare un day trading o anche un trading settimanale perché sono tipologie di investimenti che si prestano al famoso buy and hold quindi al compra e tieni per lungo periodo la valuta di questo etf è in dollari statunitensi non ha un una copertura valutaria la volatilità stimata ad un anno è del di circa il 23,49 per cento a livello di politica distribuzione abbiamo un etf ad accumulazione quindi i dividendi pagati dalle aziende interne a questo etf vengono reinvestiti automaticamente nell'etf senza che voi dobbiate fare nulla il domicilio del fondo in irlanda per quanto riguarda la dimensione del fondo è precisamente pari a 3 miliardi e 586 milioni di euro quindi comunque un fondo abbastanza grande e il ter cioè praticamente il costo che voi pagate è dello 0,15 per cento annuo per quanto riguarda il prezzo attualmente siamo a 42,36 euro a quota quindi abbiamo una quota abbastanza accessibile da parte di tutti quanti e infine vi volevo ricordare che gli etf sono strumenti che vengono ribilanciati cadenzalmente dall'emittente in questo caso parliamo della i shares ragazzi allora io ovviamente come sempre vi invito a fare le vostre analisi prima di investire ricordatevi sempre che quello che vi do sono semplicemente delle notizie per non sono consigli di investimento se volete investire fate le vostre analisi fate le vostre ricerche approfondite e cercate di capire se questi prodotti che io vi consiglio sono adatti al vostro portafoglio o no io vi chiedo di commentare questo video se vi va vi chiedo di distruggere il tasto del like per aiutarmi a far crescere questo canale perché vorrei che la cultura finanziaria in italia si diffondesse in quanto siamo tra gli ultimi paesi sviluppati a livello di cultura finanziaria vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e buon investimento